Dagli utenti nei confronti dei film visti. L'algoritmo si basa sui giudizi passati e deve fornire la base per un sistema di raccomandazione. Con questo esempio io vi vorrò far vedere quanto un argomento relativamente complesso, non lo è apparentemente, come quello che vi ho illustrato prima, è costantemente applicato in qualsiasi cosa voi facciate su internet. Dall'accesso a Gmail all'utilizzo di un e-commerce, ma che si basa su tecniche complesse, ma su idee banali. L'algoritmo, come detto, si basa sui giudizi passati e deve fornire la base per un sistema di raccomandazione. Netflix ha reso pubblico ai partecipanti un insieme di addestramento, e voi già sapete cos'è un insieme di addestramento, composto da 100 milioni e 480 mila giudizi forniti da 480 mila utenti su 17 mila, 18 mila titoli. Ogni record del data set era composto da soli 4 variabili, utente, film, data di giudizio e giudizio. L'utente era ricodificato, non era nome e cognome, aveva una codifica numerica unica. I campi, utente e film, sono stati popolati da ID interi, mentre i giudizi erano espressi in una scala da 1 a 5 stelle. Banale. Allora, l'insieme di dati di qualificazione, ora è come un insieme di test i dati di qualificazione, ma in realtà alla fine non è il dato di test, perché i data miner utilizzavano il dato di addestramento che gli davano, gli scorporavano in due parti, dato di addestramento e dato di test, creavano il modello. I dati di qualificazione invece conteneva 2 milioni e 800 mila record di 3 variabili, utente, film, data di giudizio, con giudizi noti solo alla giuria. Cioè, cosa facevano? Io ti do in passo questi dati, in cui il voto ti è noto, però io mi tengo di nascosto i dati che sono strutturati nello stesso modo, però io non ti faccio vedere qual è il voto finale, sarai tu a prevederlo, ok? Con giudizi noti solo alla giuria, i team di partecipanti dovevano eseguire le previsioni sull'intero set di qualificazione, ma dovevano essere informati solo del punteggio ottenuti su metà di esso. Insieme di quiz, 1 milione e 400, l'altra metà avrebbe costituito l'insieme di test, 1 milione e 408, e la prestazione offerta su di esso avrebbe costituito il reale giudizio da parte della giuria. A solo i membri della giuria era noto il risultato sull'insieme di quiz che sull'insieme di test. Cioè, sostanzialmente, loro addestravano i dati sui dati di addestramento, poi avevano un insieme di test su cui li testavano, poi riapplicavano il modello addestrato e testato sui dati di quiz, e la giuria verificava se sui dati di quiz i modelli avevano funzionato bene. Allora, l'accuratezza delle previsioni fornite era espressa in termini di radice dell'errore quadratico medio. RMS è l'indice più maggiormente utilizzato per determinare l'accuratezza del modello, ma non è niente di più e niente di meno che una trasformazione matematica di quello scarto, il residuo, cioè lo scarto tra valore osservato e valore previsto. E l'obiettivo era, ovviamente, ridurre per quanto possibile il valore di tale errore, cioè, questo valore, questo RMS era pubblico iniziale, bisognava ridurlo, cioè quanto più lo si riduceva questo valore, quanto migliore era la prestazione dell'algoritmo di suggerimento. Il concorso aveva l'obiettivo di migliorare la capacità di raccomandazione di quello che fino ad allora era stato l'algoritmo in uso di Netflix, che si chiamava CineMatch, un algoritmo elementare di previsione. Se applicato all'insieme di quiz, produceva in media un RMSE pari a 1,054. Prendetelo così com'è, ok? 1,054. Questo era l'errore che faceva l'algoritmo precedente e che bisognava diminuire. CineMatch si basava su semplici algoritmi a modelli lineari, con un alto numero di vincoli sui dati. Vabbè, questo ci interessa relativamente. Allora, dopo la costruzione del modello sui dati di addestramento, CineMatch produceva un RMSE pari a 0,95 sui dati di quiz, con un miglioramento di oltre il 10% rispetto ad un qualsiasi algoritmo elementare. CineMatch aveva una performance simile sull'insieme di test 0,95. Per vincere il premio di un milione di dollari messo in palio, i team di partecipanti dovevano migliorare di almeno il 10% la performance sull'insieme di test, arrivando a uno 0,85. Sull'insieme di quiz tale miglioramento corrispondeva a un RMSE di 0,85,63. Insomma, l'errore, il succo è questo. Sull'insieme di test bisognava passare da uno 0,95 a uno 0,85. Cioè, vinceva chi riusciva a migliorare del 10% la performance dell'algoritmo. Allora, il concorso fu indetto nell'ottobre del 2006 e per molto tempo il premio non fu vinto da nessuno. Fu messo in palio un premio minore di 50.000 dollari a chiunque ogni anno avesse raggiunto il risultato migliore. Tuttavia, per vincere questo premio un algoritmo doveva migliorare di almeno l'1%. La prestazione rispetta a quella del vincitore dell'anno prima. Ci siete? Vabbè. Per vincere i partecipanti dovevano fornire alla giuria il codice sorgente ed una descrizione all'algoritmo con una sua descrizione. Ok. Dopo la verifica il vincitore avrebbe dovuto rilasciare una licenza non esclusiva a Netflix. Netflix avrebbe pubblicato solo la descrizione e non il codice sorgente. Un team poteva, se preferire, non reclamare il premio se desiderava mantenere segreto il codice. Allora, a giugno 2007 si erano iscritti in 20.000 team, provenienti da 150 paesi. 2.000 team hanno inviato 13.000 insieme di previsioni. Ok. Allora, questo era il forum, per dei nerd dell'analisi statistica come era, simpaticissimo perché poi c'erano un sacco di grafici divertenti. Soprattutto c'erano molti grafici. Poi se ho il tempo vi faccio vedere anche una cosa su questa cosa del datamining condotto a livello visivo. Però era divertentissimo, io l'ho visto soltanto a chiusura. Secondo me queste sono le cose belle del lavoro dello statistico perché non c'erano necessariamente i professori o le grandi società. C'erano di tutto, c'erano appassionati. Se sono create vere e proprie comunità aperte. Quello della creazione dell'algoritmo collaborativo secondo me è stata una roba affascinantissima. Che io spero un giorno di poter proporre magari qua in Italia, che ne so, ha una grande catena ad esempio di vendita online di libri. Quindi poter proporre un'iniziativa di questo tipo sarebbe simpatico. Questa è una roba un po' simpatica nel senso che vede il decremento sostanziale per step dell'errore. Cioè si passa dall'errore di cinematch e con le epoche, lui lo chiama, nel tempo, come diminuisce sostanzialmente il valore dell'errore. Cioè c'è un miglioramento complessivo delle prestazioni dei modelli creati dalla community, dalla comunità. Questa è un'altra cosa, nel senso, viene visualizzato le tipologie nel tempo di modelli utilizzati per prevedere. Si passa dai modelli più semplici, un modello a media mobile, a un modello baesiano, multinomiale, a un modello a SWD, support vector decision, non mi ricordo. E poi appunto alla vincita dei leader che avevano il modello messo su da loro. Insomma, il senso di questo è come sostanzialmente per riuscire a raggiungere l'obiettivo desiderato i modelli dovevano diventare sempre più complessi necessariamente perché un modello troppo semplice non riusciva ad ottenere risultato. Vabbè, in questo c'erano tante grandi cose, anche a livello visivo, si facevano dei network graph per vedere la vicinanza tra un film e l'altro. Ecco, come questo, erano molto carine, no? Questa è la nube dei film per vicinanza. Cioè, io lì vedo Battlestar Galactica nella nuvola verde che deve essere quella dei Shifai, ad esempio. Sì, prego. Il network graph, con quale programma di rappresentazione grafica o statistica si possono ottenere? Ce ne sono diversi, GGOBI, per esempio, mi viene in mente, ma ce ne sono diversi. Io non sono un grande esperto di rappresentazione dei dati in forma di network graph, però ce ne sono diversi. Network graph, non mi ricordo, si chiama GGOBI? Vabbè, comunque, ci sono diversi software che lo possono fare. Sì, GGOBI è quello che per me è più noto, è un'interfaccia web, è abbastanza semplice da utilizzare, è scaricabile, ha un software esatto. Ma cos'è in Java? Non lo so com'è programmato, non lo so con cosa funziona, però dagli utilizzati frequenti ho sentito che è abbastanza accessibile, cioè abbastanza facile da utilizzare. Però non sono un grande esperto di queste cose, cioè di queste cose, dell'utilizzo di questi strumenti. Però sono simpatici perché a livello visivo, per esempio, stavo indicando questo, che è una nuvola verde dei Shifai Movie, Science Fiction Movie. C'è una nuvola composta da Battlestar Galactica, da Dune, da altri film di fantascienza, o quelli acclamati dalla Critica, quelli su Mind, Sin City, quelli in blu. Insomma, c'era così visto, sembra quasi una roba radiografia. Hanno legato i dati, cioè geograficamente con i... No, geograficamente no, di geografico non c'è niente. Questi sono vicinanza tra titoli di film e voti. Ah, ok. Titoli di film e voti. Allora, ecco, una cosa importante. Qua non se ne parlò, però negli Stati Uniti questo premio fece clamore. Vabbè, non soltanto tra i nerd. Questo fu un articolo del New York Times in cui uno scienziato disse Ok, d'accordo, io sto... Cioè, è anni che sto cercando di vincere questo primo premio, però ci sono dei casi che mi fanno impazzire. E questo signore diceva che il problema dei modelli è proprio quello che vi avevo anticipato prima. Cioè, ci possono essere i modelli che generalmente funzionano, funzionano, non dico bene, non... spesso non colgono le specificità. Cioè, ci sono, soprattutto nei film di culto, cioè ci sono dei film che possono essere acclamati dalla critica, però che possono piacere a poche persone. Ci sono dei film che è molto spesso è inspiegabile definire perché piacciono o meno. E questo venne descritto nel forum del Netflix come il paradosso di Napoleon Dynamite. Voi l'avete mai visto questo film? Nessuno di voi? Allora, io sono l'unico nerd che l'ha visto questo film. Allora, no, che l'ha visto tra di voi, ma insomma, è un film su un ragazzo sfortunatissimo, per non dire altro, dell'Ohio, che è proprio brutto, incapace, tonto, eccetera, ed ha un racconto sulle sue sfortune quotidiane, eccetera, eccetera. È un film che, se leggete la critica, ha critiche altissime e piace a quei pochi in cui ci si diverte a vedere certe cose un po' particolari. E questo matematico dice, ma caspita, io ho questo film che non riesco a incasellare perché in una scala da 1 a 5 o a solo 1 o a solo 5. E i miei modelli, tutti i modelli che ho provato, non riescono a collocarmi questo film da una parte e dall'altra. E questo rappresenta sostanzialmente il problema di tutti i modelli predittivi. Cioè, a un certo punto erano usciti a migliorare di un totto per cento le potenzialità di accuratezza delle previsioni del modello. Ma si fermava lì dove c'erano quei casi che non erano incasellabili. C'erano una serie di film che polarizzavano il voto e che non facevano sì che ci fosse una gradazione o una tendenza riconoscibile spostata più verso il voto basso o verso il voto alto. Lo stesso cosa la potete vedere nella letteratura, ad esempio. Ci possono essere grossi libri, grossi best seller che piacciono, sono molto diffusi. Poi c'è una fetta di snobbe intellettuali che lo criticano, che gli danno giudizi fortemente e a volte in modo giustificato i negativi, in virtù sostanzialmente del successo che ha ottenuto il libro, non tanto per i contenuti. Il senso è questo. Il modello non è un umano, che quindi sulla base di una valutazione data da un'esperienza di confronto con un'umanità riesce a identificare un'eccezione considerandola in quale tale. È un modello che cerca di essere specifico nella specificità e generale nella generalità, ma che spesso sbaglia lì dove ci sono delle micchie non formate da un caso, ma da più casi che non riesce a classificare. Questo Napoleon Data Might non lo riusciva a classificare, i modelli di questo matematico non riusciva a classificarlo, non riusciva a collocarlo e questo gli impediva di migliorare il tasso di accuratezza del motore di suggerimento. Comunque, ecco, il 18 settembre 2009 Netflix ha annunciato il vincitore del premio. Il team, chiamato Belcourt's Pragmatic Chaos, ha vinto un milione di dollari per aver raggiunto un RMSE test pari a 0,8567. Il team di Ensemble ha ottenuto il medesimo risultato, ma avendo loro presentato i dati 20 minuti più tardi. E loro aspetta la seconda posizione. Non hanno vinto nulla, però? No. In tre anni, ciò che ha determinato a parità di tasso di miglioramento il vincitore del premio sono 20 minuti di scarto nella presentazione dei risultati. Si sono registrati, ho visto prima, 20.000, si sono iscritti e soltanto 2.000 gruppi hanno inviato i dati. Se non mi ricordo male, c'è stata una paurosa selezione già solo per il fatto che hanno soltanto il 10% di quegli iscritti è riuscito a mandare qualche cosa. Ma comunque adesso le cose sono tanto migliorate. Stiamo parlando del 2009, adesso ci sono tanti più persone, tante più società che intraprendono. Ci sono società che vivono sui premi di questo tipo. Adesso c'è un sito, che ora se ho tempo ve lo faccio vedere, che è addetto alla segnalazione di questo tipo di competizione. Lo fanno anche per quello dico che... È un premio per gli statistici. No, ma infatti io originalmente questo materiale l'avevo utilizzato per stimolare i colleghi statistici a iniziative di questo tipo. Ad esempio negli Stati Uniti ci sono degli ospedali, che sapete come sono strutturati, privati, che fanno competizione per la previsione delle malattie. Cioè mettono in palio milioni di dollari perché si creino degli algoritmi collaborativi e qualcuno arriva e gli dica guarda, ho un infarto miocardico, lo prevedi meglio con il mio modello che utilizzandone degli altri. Qua dietro ci sono delle potenzialità mostruose, nel senso che non è detto che all'interno di società o istituti ci siano statistici professionisti bravi, ma il meccanismo competitivo e collaborativo ha dato la possibilità di raggiungere un risultato che non è uguale. O molto probabilmente non sarebbe stato... Cioè la logica è anche quella di business. Netflix avrebbe speso di più a pagare i più grandi professionisti del mondo o di meno rispetto al milione di dollari che ha messo in palio per coinvolgere un'intera community. Cioè loro hanno fatto questa competizione in un ambito di business. Io ho il migliore motore di suggerimento dei film al mondo grazie a solo un milione di dollari spesi perché qualsiasi altro professionista me ne avrebbe chiesti tanti di più. Forse anche più tempo. E più tempo. Forse anche più tempo. Quali erano il sistema di raccomodazione di Rosalba? C'è. Nel senso che... Su questo link vi rimando al tipo di sistema di raccomodazione. Non mi ricordo anch'io cosa hanno utilizzato però è una cosa tanto complessa che ci ho messo la testa ma è una roba abbastanza complessa. Io ho una domanda sull'ultima prima se vuoi fare la pausa. Il premio è stato diviso diciamo in due parti nel senso che una parte era quella di chi arrivava al 0,85 e una parte diciamo era quella progressiva di anno in anno. Sì. E chi ha vinto però questo premio qua in realtà ha utilizzato poi tutta la ricerca che c'è stata durante... Quindi poi che abbiano vinto loro in realtà poi il risultato è di un... In realtà il forum serviva a questo. Cioè nel senso che serviva per... Non c'era nessuna forma di chiusura. Quello dico... È bello, ora io non so quando siano subentrati. Comunque l'iscrizione era iniziale. Poi è stata chiusa... Io credo che sia stata chiusa a un certo punto per cui non era più possibile infilarsi a gara in corsa perché era presumibile che uno avrebbe potuto prendere un algoritmo che andava bene e perfezionarlo sulla base di un lavoro per il resto. Ma la roba bella è stata la condivisione proprio di conoscenze per migliorarsi a vicenda. E di solito invece questo tipo di indagini generali non sono mai in questo modo aperte. Cioè nel senso se io trovo un algoritmo... Per esempio penso alla ricerca soprattutto diciamo universitaria o di quel tipo lì più che al business. Se io trovo un algoritmo fantastico per analizzare dei dati medici cioè in quel caso funziona comunque con... Cioè ci sono delle licenze non so anche sugli algoritmi su quelle cose lì? No, nella ricerca funziona semplicemente così. Chi prima alloggia cioè chi prima utilizza quella roba lì è il detentore cioè è il riferimento. e viene tutto formalizzato dalla pubblicazione. Nella ricerca non c'è niente di formalmente chiuso nel senso che uno tiene segreto quello che sta facendo lo banalizzo un ricercatore tiene segreto quello che sta facendo fino alla pubblicazione. Quando è pubblicato è divulgabile. Cioè sto lavorando a un trattamento ok? Il mio obiettivo è quello di essere il primo a proporre al mondo questo trattamento. Non voglio che sia segreto in fase di elaborazione ma poi sarà è una metodologia che sarà applicabile da chiunque ad esempio. In questo caso invece è diverso. Tutto quello che era in corso d'opera veniva veniva da alcuni da altri un po' di meno condiviso e secondo me quello è la chiave magica perché molto probabilmente gli input di altri perché chi non erano soltanto gli iscritti al concorso ma erano anche professori che dicono guarda che questo parametro lo devi aggiustare di qua di là eccetera è una cosa nella ricerca scientifica che è ancora in fase di discussione quella di tenere chiuse le porte dei laboratori senza l'incontributo esterno per il miglioramento delle metodologie delle terapie impiegate però è un altro tipo di approccio però nella ricerca non c'è qualcosa di chiuso se un medico inventa una cura la deve credo che non so se ci sia un regolamento un regolamento mondiale imposto dall'organizzazione mondiale della sanità che lo imponga però credo che sia così insomma ecco se volete adesso possiamo fare una pausa ok piccola pausa qua arrivano le premesse maggiori nel senso io vi ho affollato la mente di idee spunti adesso vediamo un po' nella di entrare nella pratica racconto una breve nota introduttiva nel senso che prendete tutto quello che vi farò vedere adesso con tante cautele per due ragioni uno perché è un esperimento vero e proprio nel senso è un progetto di datamining serio richiede settimane di lavoro e quello che vi farò vedere è il frutto di amare la pena cinque giorni di lavoro considerando anche tutto l'altro lavoro che ho io e sulla base di un'idea che a me sembrava geniale e due è il fatto che secondo me la cosa carina che spero sia carina è che lo applico a degli open data perché se no non avrebbe molto senso il il collocamento di quello che avete visto fino adesso nel contesto open data in action aggiungo una terza premessa che io questo esperimento l'ho finito di elaborare ora Vincenzo gli riderà ma ieri notte a mezzanotte 40 ho spento il computer perché dovevo sistemare le ultime cose cioè è possibile che qualcosa non vada debba ritoccare un po' il codice eccetera eccetera non sono riuscito ancora a confezionare delle slide però per me cioè ci saranno dei materiali che comunque avrò modo di far veicolare in ogni caso tra di voi e quindi vi prego di essere clementi su quello che farò l'idea è farvi vedere degli strumenti complessi all'opera su degli open data e partiamo tutto da un articolo di giornale visto che siamo in termini di data journalism allora siamo sul fatto quotidiano dove il titolo è open coesione dove non vanno a finire i finanziamenti pubblici ve lo leggo in rapidità è un fiume di denaro da oltre 33 miliardi di euro quello che scorre nel nostro paese attraverso oltre 467 mila rivoli ovvero fuori di metafora i progetti di finanziamento confluendo indige artificiali distribuite in modo tutt'altro che uniforme sul territorio è questa la prima impressionante specie per i non addetti ai lavori immagine che si trae dalla navigazione del sito open coesione realizzato e pubblicato nei giorni scorsi e questo è un articolo vecchio perché è dato 23 luglio 2012 dal ministro Barca e dai suoi uffici uno strumento che dovrebbe consentire di risalire i rivoli i torrenti i fiumi attraverso i quali l'enorme massa di denaro oggetto tra il 2007 e il 2013 degli investimenti programmati per la coesione arriva ad amministrazioni a società associazioni e persone fisiche e di individuarne i benefici benefici ultimi le ragioni di finanziamento e soprattutto di verificarne che i nostri soldi siano stati spesi bene o almeno non in modo migliore chi di voi conosce open coesione? ok adesso allora lo vediamo open coesione premetto perché se no non si capisce quello che si dirà in seguito open coesione è un portale sviluppato in collaborazione col ministro degli ES e degli interni mi pare comunque dell'economia ecco non lo conoscono così a fondo evidentemente che offre un'interfaccia sostanzialmente dei finanziamenti destinati alle aziende agli istituti pubblici privati soggetti privati senza azienda quindi singoli cittadini associazioni eccetera secondo i fondi di coesione finanziamenti rivolti a questi soggetti beneficiari tra il 2007 e il 2013 è stato costruito un portale che adesso ve lo farò vedere che è open coesione molto carino in cui è possibile vedere beneficiario soggetto emittente l'entità la quantità del denaro emesso per il progetto una descrizione del progetto con una serie di caratteristiche nonché sostanzialmente il nome del beneficiario lo fa anche con un'interfaccia molto carina molto esplorabile molto interattiva e sono stati riversati lì dentro tutti i dati notare che ogni beneficiario di un finanziamento pubblico dal 2007 al 2013 ma tuttora era tenuto a non rendere privati cioè nascosti questi dati su finanziamenti sono finanziamenti pubblici e come tale devono essere pubblici cioè accessibili a chiunque per cui ci sono aziende che scoprono digitando il nome della propria azienda che hanno proprio tutti i dati strutturali dell'azienda più il dato sul finanziamento al centesimo di quello che hanno ricevuto e si stupiscono del perché sono finanziamenti pubblici è giusto che siano pubblici perché sono soldi nostri o statali o europei comunque sono soldi nostri allora qua dice tanti numeri e dati in questo primo devo le tentative di rendere trasparenti le politiche di investimento pubblico in Italia sfogliando le pagine open coesione si scopre che su quasi 100 miliardi di euro di risorse disponibili tra il 2007 e il 2013 ne sono stati impiegati in 467 2.500 467 mila progetti diversi 33 miliardi vabbè questo l'ha già detto guardando più a fondo attraverso la mappa interattiva un primo dato che balza gli occhi è quello dell'assoluta mancanza uniformità nella distribuzione di queste uniforme sul territorio 3,2 miliardi di euro investiti nella sola provincia di Napoli 3,1 miliardi di euro in quella di Palermo con coefficienti di investimenti pro capite di 30 mila euro per il piccolo comune di Palazzo a Adriano beneficiario di oltre 68 milioni di euro ripartito in 15 progetti tra i quali spiccano perché sopra i 100 mila euro la messa in sicurezza dell'ex discarica 644 mila euro la pavimentazione del cimitero comunale 103 mila euro soprattutto la realizzazione dell'acquidotto Montescuro Ovest 67 milioni ma non ha detto ai lavori non può non lasciarsi incuriosire oltre dagli oltre 14 milioni di euro ripartiti in 86 diversi progetti di finanziamento finiti nel comune di Casamiccio la Terme a guardare meglio tra i rivoli di denaro affluiti nel comune di Casamicciola la necessaria precisazione è che si tratta solo di uno tra i tanti esempi possibili e che non c'è ragione per voler attribuire al comune partenopeo alcun primato né positivo né negativo però il progetto di open data del ministro Barca evidenza uno dei suoi maggiori limiti pur potendo finalmente sapere sebbene con alcuna eccezione chi ha beneficiato del fiume di denaro scorso lungo il nostro paese resta pressoché impossibile capirne le reali ragioni e valutarne l'opportuna e congruità della spesa la colpa però non è del ministro nella sua amministrazione il limite non è nella natura tecnologica e poi fa altri esempi come è il caso uno dei tanti degli oltre 5 milioni di euro finiti a un consorzio Zefiro un consorzio che si occupa di promozione del turismo nautico italiano che il portale ministro Barca non consente di comprendere come e perché siano stati utilizzati e poi fa una chiusura sul discorso della trasparenza dell'agenda digitale e poi si riconoscendo che comunque si tratta di un buon passo avanti nella nella digitalizzazione e nella diffusione e nella trasparenza nella messa in piedi di una maggiore trasparenza appunto dell'amministrazione pubblica allora questo è un articolo di giornale è data giornalismo sì o no non lo so nel senso che potrebbe esserlo ma a occhio secondo me ci si è limitati allora manca tutta una componente di storytelling con visualizzazioni che io sono di quelle persone che lavorando in parte nell'ambito camerale dove i comunicati stampa sono pieni zeppi di numeri molto spesso anche l'Istat pecca in questo per quanto ci siano dentro dei numeri importanti sfugono in mezzo al tutto ma perché non c'è uno che crea un grafico che ne esalti l'importanza rispetto a tanti altri quindi qui manca tutta una parte di facciata ok avrebbe potuto giocare ancora di più sulla metafora della diga la metafora di rigoli magari un punto con quale lì ha trovato la giornalistica ha trovato quella possibile visualizzazione anche solo mentale forse andava fatto semplicemente il passo in più di provarla fatto dal punto di vista grafico esatto gli info designer che stanno nascendo adesso ci sguazzano queste cose nel senso riescono a trovare delle immagini che bene si sposano con un dato anche se c'è sotto una metafora semplicemente alla fine la metafora di per sé non è neanche così originale però ci sta all'interno della cosa quindi però il fatto che non abbia semplicemente citato i numeri ok tot questi tot questi già da un comunque alla fine dal punto di vista della logica giornalistica uno può avere perdonare uno può avere l'algoritmo più preciso più accurato uno può avere anche il set di dati più interessante però se non lo si riesce a raccontare con un sistema del genere che è appunto quello di far arrivare il concetto generale poi il dato di preciso non è importante neanche memorizzarlo se hai voglia di andare a vedere quant'era puoi arrivarci andando a ricostruire esattamente la componente forse principale del data giornalism che manca qua cioè la possibilità di rendere usufruibile un dato apparentemente complesso tramite una rifigurazione che lo rende accessibile ai più anche tramite l'utilizzo di metafore per dirti ma manca secondo me anche allora manca una tra virgolette scientificità sotto nel senso che a me dà l'impressione che per quanto apprezzabile perché l'ha fatto il fatto quotidiano dubito che l'abbiano fatto molti altri a me dà l'impressione che i dati siano stati in qualche modo alletti alla rinfusa vediamo cosa succede a Napoli ma perché a Napoli vai a Napoli perché presumi che ci possono essere maggiori o minori irregolarità rispetto ad altri non lo so però in realtà non prende dei casi singoli e secondo me non c'è una sistematicità cioè il dato l'informazione ottenibile da un big data come open open coesione meriterebbe per quanto mi riguarda una maggiore attenzione o un maggiore scandagliamento secondo me però è un buon punto di partenza un data journalist può partire da una cosa semi tradizionale molto più tradizionale però si sta lentamente spostando verso qualcosa di tecnologicamente più interessante da questo punto di vista allora partiamo da open coesione allora io purtroppo ho dato venendo qua ho dato per scontato che alcuni di voi lo conoscessero già questo portale per cui io non sono qua per spiegarvi il funzionamento e il senso di questo portale è un portale che è gerofrenziato sostanzialmente e che permette di visualizzare l'entità del finanziamento medio per regione come prima cosa o per provincia nel senso che volevo fare uno zoom su eccolo qua come si può vedere dalla cartina dell'Italia la provincia di cioè la regione pugliese è una delle regioni ma per motivi di coesione sostanzialmente ci sono degli obiettivi stabiliti dalla comunità europea sulle zone più o meno disagiate della comunità la Puglia è quella che in realtà è stata tra regioni che maggiormente ha soffritto dei fondi per la coesione questo c'è da aggiungere ma io non sono un esperto che molto probabilmente avrete avuto delle amministrazioni che sono state brave o relativamente più brave di altre a impiegare i fondi per la coesione il database sottostante è molto semplice da utilizzare nel senso che se voi fate un click su una provincia voi non solo ne visualizzate i dati cioè non sono visualizzate il nome della provincia o l'eventuale regione ma c'è anche un indicatore medio per cui appunto nella provincia di Bari abbiamo che vi è stato un finanziamento complessivo di 4 miliardi con un finanziamento pro capite di 3.208 ora io credo che sia uno dei più più grossi in Italia come finanziamento pro capite è indicato anche il numero di progetti 17.000 progetti appunto sostanziati si funziona molto molto semplicemente nel motore di ricerca voi potete cercare il progetto o il soggetto e lui vi dà proprio l'entità specifica in termini di ragione sociale più caratteristiche dell'azienda che ha ricevuto il finanziamento ti interroppo solo un attimo siccome noi l'abbiamo trattato nei precedenti moduli però è libera la frequenza insomma quindi non è detto che tutti quanti l'abbiano visto pubblicheremo insomma tutte le slide riguardo a questo anche il lavoro diciamo di elaborazione dei dati che abbiamo fatto più per il data journalism eccetera quindi poi se vi interessa vi mando tutto scusami no no niente niente allora io quello che voglio il mio esperimento consiste in questo io prenderò quei 17 mila casi da il sito di Open Cohesione Open Cohesione ha questa parola magica che è in fondo scarica i dati io non lo so perché in fondo l'abbiano messo scarica i dati che cioè il ci si ho una precisazione riguardo a questo nel senso che se fai una ricerca diciamo tua insomma determinata un tema un territorio c'è scritto sopra scarica il CSV quei dati lì che ti dice scarica i dati sono quelli che si scaricano dal sito del DPS sì che sono diciamo quelli proprio generali per regione o per tema eccetera lo riconosco quindi sono no ma è giusto perché dovrebbe comunque essere messo più in evidenza però volevo sottolineare insomma che comunque se fai una ricerca per fatti tuoi puoi scaricarti direttamente la ricerca filtrata per le informazioni che ti servono chiaro hai fatto benissimo precisare non voleva essere assolutamente una critica questo è secondo me OpenCohesione è un sito che mi invito a vedere tutti è bellissimo è bellissimo è strepitoso e conto di riuscire a fare la stessa cosa che cercherò di fare adesso in altri luoghi o comunque ampliarla applicarla anche che ne so nella mia provincia piuttosto che altre però insomma era una battuta la mia questo è veramente una cosa che in Italia cioè mi stupisco ancora adesso che si sia riagati esatto volevo chiederti la tua opinione riguardo al fatto di a parte il fatto vabbè immagino che condividere i dati anche appunto negli articoli giornali si dice ok questo è il link scaricati non solo il link magari alla fonte ma proprio il link ai dati proprio fogli excel qualsiasi sia il formato invece la possibilità di scaricarsi l'algoritmo con cui sono stati fatti tu pensi che sia giusto condividere anche quello condividere il modello con un lettore anche ma tu cosa intendi per algoritmo intendo dire il modello non l'algoritmo scusa quello che è stato usato per l'elaborazione poi per qua non c'è nessuna elaborazione sono dati grezzi sono semplicemente dati grezzi ma nel caso ci sia appunto immaginiamo di fare un articolo in cui il data journalist assieme al suo team di statistici e informatici ha elaborato proprio un modello ritieni che sia per amor di completezza giusto anche condividere il modello con un lettore qualsiasi oppure no? secondo te dopo quello che ti ho detto la mia risposta quale potrebbe essere? no guarda io tutto no io tutto quello che ho fatto sempre a meno che non sia un'azienda che ti paga e ti dice io voglio che tu faccia questo però è mio se io riuscirò a scrivere un articolo sulla base di quello che farò vedere adesso io metterò l'xml alla fine e poi un modello predittivo creato e poi ne farete quello che volete cioè a me darlo a voi è un'occasione perché lo perfezionerate tutto qua insomma però in quel caso non intendevo dire darlo a noi intendo dire anche a un lettore no 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 renderlo unico significa che do un link che è accessibile a chiunque allora bisogna correre qua nel senso che allora io vado direttamente al dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica che appunto ha una voce proprio scarica gli open data sui progetti finanziati con le politiche di coesione allora ci sono lo stesso dato è disaggregato ok nella descrizione del progetto nella localizzazione cioè qua quindi ci sono la natura è spiegata la natura del progetto in più campi le localizzazioni sia del soggetto emittente che del ricevente e i soggetti riceventi con eventuali indirizzi ok e i pagamenti effettuati fino adesso c'è un file di metadati adesso vedremo così ma quello che è interessante è che è molto semplice da esplorare perché sostanzialmente quando andate alle singole regioni avete uno zip per tutte le regioni quindi dentro quello zip c'è un file unico di Excel per la regione che è quindi filtrabile sulla base di provincia piuttosto che di comune eccetera eccetera cosa ho fatto io allora io ho preso i dati della Puglia per tutte quelle quattro aree e ho fatto ora questo questo passaggio lo dopo è scontato Andrea Zedda che ha intervenuto il nostro collega ha intervenuto precedentemente ha fatto vedere l'utilizzo ad esempio di Google Open Fine per il join e il trattamento del dato e quindi l'unione dei dati ora c'è chi lo riesce a fare anche semplicemente in Excel o chi utilizza altri software commerciali eccetera io questa cosa non farò vedere perché io devo partire da un dato già strutturato la mia funzione qua non è farvi vedere come trattare il dato all'inizio per renderlo disponibile spero in quello che farò in futuro di magari anche fornirvi degli script che riescono a farlo sui dati piccolo inciso fino a una settimana fa io non avevo niente in mano per questa cosa qua nel senso avrei fatto siccome il mio principale scopo fino adesso era non fare cioè non far vedere tanto come fare il data mining ma cos'è il data mining perché è una cosa relativamente complessa era un po' sul farvi presentarvi soltanto una cosa dopodiché mi è sembrato uno spreco non sfruttare questa quantità di dati open e ho chiamato Andrea Zedda questo nostro amico chiedendogli ma tu hai qualcosa a suggerirmi perché i dati open coesioni per quanto guardi i metadati non mi dicono granché e Andrea fa ma io ti suggerirei questo fai una sorta di investigazione prendi i codici a teco delle aziende che sostanzialmente caratterizzano il tipo di attività dell'azienda sei manufatturiera sei un commerciale sei uno di servizi stiamo già definendo le macro aree ma sono dati è un codice disaggregato tu puoi arrivare a dire a partire al abbigliamento tessile con ciappelli cioè puoi arrivare alla definizione della segmentazione particolare del tipo di attività e prova a fare un'associazione tra questo e la destinazione d'uso il codice di destinazione d'uso del finanziamento per dire se ci sono per vedere se ci sono delle incongruità cioè se ci sono dei progetti che sono stati destinati a delle aziende che in realtà facevano tutt'altra attività rispetto a quella che era la natura del finanziamento stanziato e si è aperto mondo io il codice atteco ci lavoro hai ricevuto delle minacce non ancora spero che non allora no però allora io sui codici atteco ci lavoro tutti i giorni al lavoro per indagini congiunturali i codici atteco so come sono allora le finalità possono essere prevalentemente questa l'assegnazione da parte dell'ambito camerale del codice atteco non è privo d'errori cioè nel senso a un'azienda non è raro che nel tempo cambi il codice atteco e che ci sia un ritardo nel suo aggiornamento uno due io non so assolutamente niente di assegnazioni delle codifiche dei codici dei finanziamenti per cui io non escludo che ci possono essere delle anomalie anche in quelle definizioni tre sarebbe bello se con questo modo noi individuassimo dei comportamenti fraudulenti detto questo non è che se io individuo una serie di associazioni non congrue se siano necessariamente associabili a condotte fraudulenti da parte degli enti emittenti dei finanziamenti ecco cioè sappiate che mi rivolgo a tutti sappiate che non sto presumendo assolutamente niente però questa è la via che secondo me scientificamente dovrebbe essere adottata ad esempio dalla polizia dalla guardia di finanza cioè questi sono gli strumenti che immagino già adottino però queste cose sono cose che faccio che faccio su mia spontanea iniziativa senza sapere se lo fanno altre persone insomma allora il risultato del join di questa di questi dati è questo file excel che dovrebbe avere 17.000 all'incirca casi quanti quelli che avete visto nel grafico di open coesione quindi ripetendo cioè facendo diciamo una ripetizione un attimo su che cosa sono questi dati sono tutti i dati dei progetti di tutta la Puglia di tutta Bari tutta Bari tutta Bari ok provincia quindi provincia di Bari e sono i dati sui progetti sui progetti e sui soggetti riceventi già uniti ok progetti più soggetti e anche le localizzazioni ok vediamo lo scorro sono 15.000 casi bisogna sottolineare che c'è una piccola avvertenza una piccola avvertenza nei metadati che farò vedere allora questi sono i metadati che sono scaricabili vediamo di aggiustare le colonne e no allora questi sono i tre tipologie di i quattro tipologie di dataset che avete visto in open coesione soggetti le localizzazioni i progetti localizzazione soggetti e ci deve essere anche i pagamenti io ho fatto il join tra tutti questi come avete presente questo è il nome di ogni colonna con la specifica descrizione ok questo file dati è nient'altro che questo metadati metadati dopo scontato cosa siano cioè sostanzialmente i metadati è un'informazione che serve a spiegare la natura della variabili o dei campi che noi utilizziamo nella nostra analisi la natura non solo in termini di contenuto ma anche numerico e di natura sostanzialmente di numerico e di struttura cioè qui ci indica se è il campo numerico piuttosto che testuale eccetera eccetera nella sua forma nella sua forma grezza è così cioè come vedete adesso apro un pochino le colonne se abbiamo poco spazio ok questo è il codice locale di progetto che è comune a tutti i file e che io ho utilizzato per il joining cioè l'unione dei quattro file dati di progetti localizzazione pagamenti e localizzazione soggetti pagamenti e progetti localizzazione soggetti e pagamenti per ognuno di questo per ognuno di questi l'identificativo dell'azienda del progetto è sempre unico per cui si utilizza quel campo per unirli mi seguite fino a qua? Io ho utilizzato R R quindi io li ho niti tutti in un unico file escludendo una 2000 aziende più o meno e qua c'è appunto una specificazione una sorta di disclaimer nei metadati che dice che sostanzialmente sono stati oscurati i soggetti riceventi che non erano SRL o una ragione sociale riconoscibile o un'associazione o un istituto pubblico privato riconoscibile o una ragione sociale vera e propria ma erano nome e cognome semplicemente per cui passiamo da un 17.000 a un 15.000 ma sempre big data è ok quindi abbiamo questo file dati e per me e altra piccola parentesi a un'altra premessa strumento per fare data mining allora io sono uno statistico e come statistico dico che esiste un progetto open source che si chiama R qualcuno di voi lo conosce o R R R è un software statistico un software statistico che è il lavoro di una comunità mondiale enorme e secondo me a mio avviso io non so allora premetto io non sono un fanatico dell'open source cioè lo apprezzo però a livello di produzione non critico chi fa combinazioni software commerciali o software open source io dico che secondo me se l'oggetto finale il risultato finale del proprio lavoro è comunque ottimo è dipendente sostanzialmente dallo strumento utilizzato però questo strumento è il frutto forse di uno dei progetti open source più riusciti al mondo perché è un pacchetto che ha sul classato di gran lunga qualsiasi software commercial competitivo e lo vedrete all'opera anche se non è gradevole da un punto di vista estetico la sua console di comando è a linea di codice ed è anche un po' brutto perché come dicono gli sviluppatori di Google e Google per fare quelle robe che mi fanno accompagnare nella pubblicità personalizzata utilizzano R per fare i modelli il problema di R il vantaggio di R è che è sviluppato da statistici perché è un programma statistico il peggior difetto di R è che è sviluppato da statistici perché non sono informatici per cui ha tutta una serie di accrocchi ha tutta una serie di accrocchi che non funzionano ma un informatico dice ma perché non hanno risolto sta roba che è apparentemente banale di non so esplorazione di risorse piuttosto che produzione del grafico eccetera eccetera questa è una battuta che fa molto ridere gli statistici la semino ogni tanto la comunque noi andremo a io dopo vi farò vedere l'elenco di software soprattutto gratuiti open source che ci sono per il data mining però io andrò a utilizzare R con due pacchetti principalmente Rattle e R Commander che sono due interfacce utenti che sono abbastanza comprensibili e poi utilizzeremo mamma mia sono mezzogiorno un quarto utilizzeremo Naini per la parte di creazione di utilizzo di previsione sul file XML creato allora praticamente adesso io apro R dove è che è finito con questo ridimensionamento ok non entriamo nello specifico del codice perché è complesso io vi sto dicendo soltanto cosa faccio cosa farò ora io apro una nuova interfaccia che è R Commander ok R Commander mi consente di avere una barra degli strumenti semplice molto simile a quella che avete in Excel che mi permette di attivare senza dover scrivere il codice a mano una serie di test statistici allora a questo punto cosa faccio io ho già trasformato il mio file Excel in un file in formato di R allora io intanto mi carico questo script che ho già fatto e che perfezione ero e metterò a disposizione di chi lo voglia utilizzare in R Commander apro il mio file dati in R poi mi faccio vediamo se viene fuori senza problema perché ovviamente non è uno strumento informatico allora cosa ho fatto ho fatto esattamente quello che vi avevo detto cioè questa prima colonna che vedete qua sono gli ateco dei soggetti dei soggetti che hanno ricevuto il finanziamento altra premessa scusate sto passando da palo in frasca allora voi nel vostro file dati l'ateco l'ateco dov'è allora l'ateco l'ateco di cui no codice è questa allora forma giurica codice eccolo qua l'ateco soggetto che avete nei vostri dei dati di open coesione sono quelli sono questi ok come avevo detto hanno una cifra che è tanto più dettagliata quanto si vuole descrivere il tipo di attività dell'azienda su open coesione vi manca questo a me mancava questo cioè che è una una descrizione della prima cifra del codice a teco cioè quella che descriva il macro ambito di attività per fare questa cosa qua semplicemente scaricate gli altri open data che sono la struttura teco 2007 di istat che è formata così sostanzialmente struttura teco dov'è eccolo qua struttura teco qua e avete la lettera è un po' tagliato lo schermo la lettera che corrisponde alla prima lettera della teco più la descrizione la lettera equivale agricoltura la lettera b istrazione minerali da cave e miniere c attività manifatturiere via 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 dentro a R preliminarmente credo rientri in una sorta di produzione in energia elettrica credo 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 che anche gli inceneritori producano vapore che viene commutato in energia elettrica allora ho fatto il join tra le quattro tabelle di open data ho preso la definizione a teco e l'ho ricodificata facendo anche lì sostanzialmente un join allora cos'è che ho fatto qua io ho già individuato l'associazione tra queste descrizioni che avete già visto di fonte istat con la descrizione del progetto finanziato allora io qua ho una tabella non si vede benissimo però ho una tabella che scorrendola vedete che ci sono un sacco di zeri significa che non c'è giustamente ad esempio un'associazione tra servizi di alloggio ristorazione e infrastrutture del settore energetico cioè non c'è nessuna azienda che si occupa di ristorazione e alloggio che è stato finanziato giustamente per infrastrutture del settore energetico e come potete vedere c'è una ricorrenza nei numeri questo equivale al fatto che 658 aziende operanti nel settore della difesa assicurazione sociale obbligatoria ha ottenuto finanziamenti per informazioni sostegni per il mercato del lavoro e così per tutti gli altri ok? ce l'avete queste qua strutture energetiche dove? scusami no giù sono due cellule vuote queste no? no no più giù l'ultimo uno degli ultimi linee infrastrutture del settore energetico probabilmente avrà avuto i finanziamenti per i pannelli solari difesa assicurazione quello lì no più giù più giù qua questo ancora più giù questo questo ecco infrastrutture del settore energetico difesa assicurazione sociale obbligatoria attenzione il finanziamento deve corrispondere a uno scopo di utilizzo immagino io nel senso immagino però allora io rimango da non esperto a volte non hai trovato la corrispondenza tra l'attività e per esempio la voce infrastrutture del settore energetico che potrebbe essere aziende che non centrano nulla con il settore energetico che hanno montato i pannelli solari credo sì appunto in realtà ecco in realtà un analista semplice barra scorre tutto quanto e vede sostanzialmente presume che in corrispondenza di numerosità molto più alte ci sia una naturale associazione tra attività dell'azienda destinazione d'uso ok però ci sono dei casi molto singolari nel senso che in alcune voci di assegnazione della spesa le frequenze sono alte poi ci sono alcune cose che magari non tornano questo può anche succedere difesa assicurazione sociale ha avuto due aziende due aziende due soggetti hanno ricevuto finanziamenti per infrastrutture per telecomunicazioni va bene ok però ci possono essere altre cose un po' più anomale vediamo vediamo di trovarne così ora le cerco qua se no mi viene puoi ripeterci anche bene cosa hai associato a cosa cioè qual è il è l'associazione tra il codice a teco dei soggetti che hanno ricevuto il finanziamento e quindi che descrive l'attività dell'azienda con il codice di descrizione che descrive la natura del finanziamento ok quindi la descrizione del ok ok ho capito quindi quindi la colonna di destra è open coesione sono le descrizioni dei dei singoli settori a cui sono associati i progetti esatto e invece lì sono le categorie a teco prese da istat esattamente che si riferiscono alle aziende degli stessi progetti brava brava e il numero di associazioni cioè quanto più alta è il numero di associazioni tanto presumo che ci sia una concordanza tra ciò che fa l'azienda e la natura del progetto investito le categorie sono A, B, C, D chiamiamole le stesse 1 dall'altro 1, 2, 3 hai visto A1 A2 A3 poi B1 B2 per tutto quanto contando il numero di associazioni tu ci hai colto benissimo perché alla fine quello che faremo è sostanzialmente questo cioè uno potrebbe star là e sfogliare tutto questo file dati andando a vedere quale azienda corrisponde a queste singolarità che io chiamo vediamone prendiamone una a caso allora queste singolarità no ma ne volevo prendere un altro cioè questo per esempio eh no allora questo taglio riparazione di autoveicoli motocicli che ha ricerca sviluppo tecnologico innovazione altre attività servizi è un'anomalia perché insomma è strano che non ci sia una specificazione diretta appunto dell'attività dell'azienda allora allora vediamo se ne trovo una trasporto e magazzinaggio opere e infrastrutture sociali cioè sono tutte allora non escludo che la regola di associazione da parte degli enti emittenti preveda sostanzialmente qualcosa di questo tipo però può essere un segnale di anomania ok e il tre tipologie di possibilità anomalia ve le ho descritte prima per esempio una cosa che sarebbe non lo so rispetto all'esperienza che ha avuto nell'associazione di un'azienda rispetto al finanziamento è stata una in particolare per quanto riguarda i sussidi agricoli che non c'entrano con open coesione però lì per esempio un'azienda che ha ricevuto moltissimi soldi aveva tantissimi codici Ateco perché faceva una miglia di attività anche abbastanza strane nel senso che andava dalla elaborazione di prodotti caseari al trasporto rifiuti alla gestione di macchinette per le scommesse eccetera quindi era un po' equivoca come diciamo in sé quindi si potrebbe tracciare tramite questo per esempio un'azienda che ha tanti codici Ateco che magari può essere anomala rispetto hai colto perché il database grosso sui sussidi all'agricoltura si chiama Farm Sussidi lì ci sono tutti i codici Ateco qua in open coesione il problema è che c'è solo uno che non so sulla base di cosa sia stato scelto ok quindi le aziende che hanno più codici ne hanno qua solo uno esattamente solo uno ce n'è solo uno allora siamo qua vogliamo sostanzialmente a questo punto creare delle regole cioè creare un modellino che mi distingua il caso normale dal caso anomalo indipendentemente dall'anomalia sottostante allora a questo punto io mi faccio una regola associativa cioè utilizzo un pacchetto di R utilizzato per la Market Basket Analysis cioè io compro il latte insieme alle olive per fare questa roba qua allora carico il pacchetto suo ok non visualizza nessuna tabella perché non c'è non c'è necessità ogni tanto si blocca ma è nella ok perfetto dov'ero allora ora è che ho un taglio qua non capisco perché mai ho un taglio qua nello schermo però in realtà ha scoperto l'analisi associativa ha scoperto 22 regole adesso mi spiego cosa sono 22 regole sono 22 associazioni che lui considera normali ok queste 22 associazioni le spieghiamo qua ok allora qua si quale colonna di open coesiona hai associato al codice articolo delle aziende quale colonna ok giusto perché è la variabile che io ho trasformato io ho utilizzato il allora che è questa variabile che molto probabilmente io ho rinominato e che nell'originario vediamo i metadati soggetti codice attecco soggetti io ho utilizzato il codice attecco soggetti nella database metadati nel database soggetti ok allora a questo punto io ho 22 regole che sono strutturate sulla base di concetti puramente matematici e probabilistici cioè la prima regola mi dice che la più grande associazione c'è tra un codice di iscrizione del finanziamento ricerca e sviluppo tecnologico innovazione con il codice attecco servizi di informazione e comunicazione ok e poi via via a seguire queste sono le 22 regole che lui mi ha trovato cioè l'attecco il codice di iscrizione di settore sono infrastrutture del settore energetico maggiormente associato ad esempio all'amministrazione pubblica e difesa e assicurazione sociale obbligatoria ma c'è un ordine? sì c'è un ordine sulle 22 regole sì è un ordine dato da questi tre parametri support confidence e lift occorre che io ve li spieghi e devo fare in fretta perché non abbiamo tanto tempo sono sono misure allora support e confidence cioè supporto e confidenza sono misure di probabilità mentre il lift è una misura derivata da un calcolo probabilistico comunque vediamo un esempio ora per farlo vedere non ho avuto il tempo di fare slide andiamo nel in questo no non nel pdf della regola associativa ma questo confidenza ok ok sono due esempi allora uno e due allora qua dà la possibilità che più soggetti più elementi siano associati a un elemento o viceversa un elemento sia associato a più elementi ma supponiamo che questo sia un elemento unico uno e due è associato a tre quando ha 90% di confidenza se quando un cliente ha compratto gli oggetti uno e due nel 90% dei casi ha compratto anche tre cioè se io ho comprato latte e nel 90% dei casi ho comprato anche olive la confidenza ha valore 0,90 0,9 il supporto invece è 1,2 è associato a tre quando ha il 20% di supporto se il 20% delle transazioni contiene 1,2,3 indica la frazione dei casi nei quali la regola la si applica cioè il supporto è quando io ho acquistato il 20% delle volte latte e oliva insieme ok il lift è un concetto un po' più un po' più complesso association rules allora il lift è in qualche modo quello che determina il numero di regole cioè quante associazioni sono da considerarsi normali e quanti anomali cioè mi spiego tiene conto non solo della frequenza con cui compaiono i singoli item ma tiene conto anche della loro associabilità faccio due esempi concretissimi allora un lift un'associazione a un lift alto quando ad esempio acquisto un collare antipulci per cane e una crema antipulci per cane quell'item lì ha un supporto basso perché non viene acquistato molte volte nel suo complesso ma è un'associazione molto stretta cioè significa che i due elementi compaiono poche volte ma compaiono molto assieme lì non c'è anomalia ok perché hai pochi finanziamenti di quel tipo associate a poche aziende di quel settore mi seguite un lift molto basso invece ce l'hanno i negozi di quando vai in un negozio di articoli sportivi dove tu hai tutto e compri un costume da bagno insieme a dei guanti da sci sono due elementi che vengono acquistati molto frequentemente singolarmente ma è difficile che vengono acquistati contemporaneamente perché c'è un problema di stagionalità cioè quindi è chiaro che tu mischi un'attività che è molto grossa con una destinazione d'uso molto grossa ma che in realtà non dovrebbero non dovrebbero accollarsi il valore di riferimento è 1 se il lift ha valore maggiore di 1 c'è un'associazione che rispecchia questa logica di cui vi ho appena detto se è inferiore di 1 sono da considerarsi anomali per cui praticamente quello che succede nel nostro caso è che come potete vedere alla vostra destra tutte le 22 associazioni hanno un lift maggiore di 1 indipendentemente dal supporto perché come potete vedere il supporto può essere anche molto basso cioè nel loro complesso l'associazione tra singola natura dell'attività e natura del finanziamento è basso a questo punto io cosa faccio riprendo a mano la mia console e e dico va bene ah il mio algoritmo prevede una di di specificare dei dei valori minimi di supporto e confidenza voi avete visto cosa sono supporto e confidenza questi valori minimi possono essere abbassati il lift minimo di quelle 22 associazioni era 6 io voglio vedere di andare a creare più regole cioè a ridurre il numero di anomalie per cui praticamente la rifaccio andare con vediamo un attimo ah no scusate prima di far questo una cosa indispensabile per semplificare anche un po' la nostra vita è quello di creare l'associazione ecco questo è più semplice da leggere nel senso puramente formale ma non di contenuto quello che io ho fatto è sostituire il codice a teco che invece è presente in open coesione ok con e quindi ha una lettera come vedete gbd codice soggetto o codice soggetto cg i sì perché sono anche invertite l'associazione cioè la testa di un'associazione può essere una categoria di finanziamento così come un codice a teco comunque quello che io ho fatto è la stessa identica cosa di prima soltanto che ho sostituito il codice numerico o o in forma di lettera corrispondente il codice a teco utilizza una lettera mentre il codice di finanziamento utilizza un numero né più né meno ma sono gli stessi identici dati vedete che il lift è questo allora a questo punto per rendere un po' divertente la cosa io cosa faccio mi creo una variabile nuova una colonna che ha tutti i zeri o uno a seconda che le aziende rientrino in quelle 22 regole se non rientrano io gli do un uno allora se rientrano io gli classifico con zero se non rientrano io gli classifico con uno e la mia variabile è la variabile target faccio una riclassificazione sulla base delle regole associative che ho visto precedentemente faccio andare questo algoritmo lui mi ha creato questa variabile che è uno e zero mi faccio magari anche dei riepiloghi visivi questo è il più brutto che potevo fare sostanzialmente fa vedere quant'è in termini di barre quanti sono le aziende che risultano congrue da quelle che risultano non congrue io le sto chiamando sono consciente di che le sto chiamando in modi diversi di volta in volta ma comunque questi sono gli zeri e questi sono gli uno questi sono stati classificati sulla base delle regole associative precedentemente ricavate e queste rimangono fuori da quelle regole associative cioè significano che hanno un lift inferiore di uno in qualche modo e quindi non c'è quell'associazione che vi avevo detto a questo punto io mi creo una semplice statistica descrittiva che mi dice che 1170 sono le aziende non congrue sull'intero campione cioè all'incirca 11% ok io voglio è quello che stavo facendo prima intanto per comodità mi elimino un po' di variabili questa è soltanto una procedura di comodo farò una cosa in rapidità cioè il supporto era 0,001 cioè significa che io identificavo le associazioni dove appunto le due categorie comparivano almeno mille volte io voglio vedere appunto di ridurre questo supporto per riuscire ad ottenere maggiori regole associative quindi in realtà mi salvo questo dato ok me lo ricavo vediamo un attimo me lo ricavo load ok anzi no facciamo così eccolo qua applico appunto la regola l'analisi delle regole associative con un supporto più basso faccio la stessa cosa di prima e mi accorgo che le regole identificate non sono più 22 ma sono sono in questo caso 23 è un modo per è il modo esplorativo di cui vi avevo detto prima cioè proviamo riproviamo proviamo riproviamo cerchiamo di di espandere diminuire quella quota di aziende non congrue allora a questo punto io mi ricalcolo la variabile target e poi mi ricalcolo quelle tabelle di frequenza che avete visto precedentemente non l'ho abbassato di poco siamo sempre sull'ordine 1700 aziende non congrue mi fermo qua perché sostanzialmente io sto dicendo sto o come livello più basso quello delle 500 aziende cioè me ogni 500 aziende che 500 regole che compaiono insieme cioè associazioni tra codice teco e natura del codice del finanziamento però la cosa interessante è anche vedere come si differenziano allora cioè quindi ora stiamo andando a vedere come queste 1000 e tot sono ripartite in base a delle caratteristiche ok allora mi creo un po' di statistiche descrittive ma la cosa più carina è questa purtroppo purtroppo c'è un non c'è modo di far vedere quel taglio questo questo numero qua è un problema proiettore puoi spostare la finestra posso? no va bene non importa vi dico sostanzialmente ve lo dico ve lo leggo da qua si fidatevi non ci sono problemi è che è proprio scomodo no faccio così ma che cretino eccolo qua cosa ci dice ho calcolato l'importo medio del finanziamento per le due tipologie di congruità zero è congruo uno è non congruo significa che i congrui hanno ricevuto in media 94.000 euro contro i non congrui che ne hanno ricevuti 622.000 in media no no allora anche qua non presumiamo niente stiamo nel vago chissà ma è una grande differenza ok lui la statistica ci ha detto che c'è 23 regole che rappresentano tra virgolette la normalità c'è tutta una il 10% dei finanziamenti però non corrispondono non è una normalità ma la cosa palese è che queste aziende che hanno ricevuto che rientrano in questo 10% i soggetti riceventi ne ricevono in media qualcosa come 6 volte di più in termini cioè queste che hanno i codici non congrui esatto non congrui tra virgolette sì sì sempre diciamo esatto allora andiamo a andiamo oltre magari potrebbe essere interessante vedere questa situazione riscontrarla che l'altro e convince sì purtroppo non lo faccio tutto adesso perché i big data già ci sono qua con 17.000 casi avrei dovuto prenderne non so in Puglia credo sia 140.000 o qualcosa del genere insomma questo è solo un primo step da qua è solo una partenza cioè nel senso si può fare tanto perché il dataset è grande ora io cosa farò allora io sto salvando i miei dati in un formato che possa essere ricevibile anche da altri software lo sto facendo sto salvando i file dati che avete già visto con l'aggiunta dell'ultima variabile 0.1 in un formato CSV a questo punto io apro il software cioè il software che mi permette di fare data mining vero e proprio cioè questo è già data mining questo è già data mining però non ho creato alcuna nessun modello è già data mining perché io ho fatto regole associative è una tecnica che permette di fare del data mining questa è l'interfaccia di Rattel ora mi dispiace non potermi soffermare tanto non abbiamo tanto tempo come potete vedere ha un'interfaccia relativamente semplice che vi permette di acquisire il dato in questo caso in formato in formato dovrebbe essere questo qua aspetta vediamo un attimo Rattel MyData ok lo apro ci mette un po' ecco qua allora sul lato sinistro avete il nome delle variabili cioè tutto il contenuto del vostro database come potete vedere c'è un identificativo che vi dice se la variabile è un predittore cioè uno che serve a spiegare la vostra variabile target oppure una variabile target o se deve essere ignorata oppure no la cosa interessante è questa voce partition 70 15 15 cos'è? è la ripartizione dei dati di addestramento dei dati di test dei dati di verifica cioè lui con questa cosa qua fa costruisce un modello sui dati che abbiamo qua sulla base di quanto vi ho detto prima sostanzialmente ok bravissimo bisognerebbe fare anche operazioni di cross validation però ok anche questa roba in più io vi sto elementarizzando tutto quanto credo di sì perché sono pacchetti che implementano e si integrano con altri pacchetti R allora quello che io farò adesso è un esempio banalissimo terra a terra adesso selezionerò tutti i miei soggetti tutte le mie variabili scusate le imporrò come ignorale e farò in modo che di cercare di costruire un modello in cui la variabile obiettivo sia la target cioè io voglio vedere cos'è che spiega in realtà questa incongruità mettendoci dentro rimettendoci dentro il codice atteco dell'azienda ma anche una variabile essenziale come abbiamo detto prima il finanziamento totale pubblico quindi un modello semplicissimo una variabile preditrice due variabili preditrice e una dipendente allora a questo punto quello che io faccio è sostanzialmente andare a trovare il finanziamento totale pubblico imporla come input così come inserirgli il codice atteco è molto più semplice per un algoritmo lavorare su dati strutturali quindi su codici anziché non destrutturati gli dico di rieseguire il tutto in modo tale che ora io metto dimensiono la tabella in modo tale la possiate vedere tutti allora non mi soffermo su questi su queste schede vado subito al al sodo lì sopra avete tante scritte quante corrispondono ai modelli predittivi caricate in Rattle in realtà ne potete caricare molti altri qua abbiamo alberi decisionali piuttosto che foreste un tipo di albero decisionali piuttosto che alberi bootstrap ora vediamo poi ci sono svm i modelli lineari i reti norali e si possono creare tutti quei modelli sugli stessi dati per brevità ne farò uno utilizzando questo modello tri che è basato su un pacchetto di R molto potente che è Rpart non sono riuscito a farvelo vedere non riuscirò a farvelo vedere Facebook per riuscire a determinare le caratteristiche dei propri scritti per poterli fare vedere un certo tipo di pubblicità utilizza proprio questo modello che vi farò vedere adesso allora praticamente lo eseguo e lui lo esegue su nostri dati ora qua lui ha creato una serie di codici che però non mi tornano codici attecosoggetti no ritorniamo indietro attecosoggetti ecco cosa avevo sbagliato non è codici attecosoggetti mi torno indietro lo eseguo eccolo qua allora questo non ci dice molto e non ci dicono molto nemmeno le regole che lui può in qualche modo evidenziare quello che mi dice di più è questa roba qua allora vediamo se riesco a farvela ingrandire ok questo è un albero decisionale seguiamo il ragionamento che fa questo ha già costruito un modello ma non solo l'ha costruito ma ha restituito anche un output cioè ci dice sostanzialmente come si distribuiscono i dati di finanziamento totale e i codici a teco sulla base che io li abbia categorizzati come non congrui o come congrui allora questa si legge dall'alto in basso i modelli decisionali i modelli a classificazione si leggono in questo modo il nodo principale la root è quella lì in cima e come vedete c'è la ripartizione tra 0 e 1 allora i blu sono quelli sono i nodi a maggioranza non congrui i verdi sono i nodi a maggioranza congrui il nodo madre il nodo principale si differenzia in sì no cioè nel senso è verde la maggioranza sua è congrua per cui sostanzialmente la regola che viene applicata è questa cioè la regola sottostante a ogni nodo per determinare la sua ripartizione è quella sotto il nodo cioè cosa succede io parto da qua mi pongo una domanda l'azienda appartiene a questi settori a teco sì allora io vado qua se se appunto appartiene a quei codici a teco io ho una stragrande maggioranza ho un 98 di congrui e 0,2 di aziende non congrue cioè che stanno in questo nodo mi seguite? cioè sostanzialmente dice che se io ho appunto il l'azienda che appartiene a quegli a teco quasi sicuramente è congrua questo nodo allora qua dice che il 98% di questo nodo sono congrui e questo nodo nel suo complessità rappresenta l'86% di tutti i casi mi seguite? mentre se no cioè se non appartiene a questo a teco finisce in questo nodo qua ok? che è il 14% di tutte le aziende ma dove sostanzialmente la quota relativa di scusate un attimo la quota relativa di maggioranza sostanzialmente rispetto alla sua quota media la quota relativa di maggioranza è data dagli 1 dal non congrui ok? per cui si colloca qua cioè abbiamo un 68% di non congrui qui dentro un 32% di congrui però non basta bisogna sfoltire bisogna sfoltire per cui qua dice ok non appartiene a quei settori a teco la prossima discriminante è questa cioè che il finanziamento pubblico è maggiore a 20.000 euro allora se è maggiore di 20.000 euro finisce qua ok? e sono a teco e qua c'è un'altra regola se sono a teco AHS sono congrui se non sono congrui quindi cadono qua questo nodo in pratica questo nodo qua composto dal 99% di non congrui va letto in questo modo sono a teco che non appartengono né a questi codici né a questi codici ma che hanno un finanziamento maggiore di 20.000 euro mi seguite? cioè arrivi qua sopra e riesci a ricostruire la natura del 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 nodo ok? però cos'è che mi interessa? io ho visto ho visto quella montare di di dati belli belli grossi io voglio voglio capire cosa c'è di anomalo il fatto che un finanziamento sia superiore di 20.000 euro mi può dire tutto o meno ok? allora a me interessa questo percorso qua allora ha finanziamenti maggiori di 20.000 euro? no scendi ecco c'è un problema qua che R non risolve perché nel senso questa è un sotto insieme di un gruppo più grande per cui in realtà c'è poi un limite più grande ancora che identifica qua no? un sotto gruppo per cui sostanzialmente qua ci muoviamo aspettate 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 vediamo un attimo 6 7 11 25 allora 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 3 7 6 no qua si ferma 1 2 3 scusate li sto contando 3 ecco eh niente ogni tanto allora il 4 dov'è? il quarto nodo dov'è? non c'è non vorrei che sia sovrapposto da qualche parte no perché sì no finanziamento pubblico sì ok no facciamo un passo indietro ho sbagliato a descrivervelo ecco perché mi ero incasinato qua la regola è finanziamento pubblico maggiore ai 20.000 euro la regola è che sì sta da questa parte e no sta da questa parte quindi questi sono i finanziamenti pubblici inferiori ai 20.000 euro scusate qua ci sono i finanziamenti pubblici maggiori ai 20.000 euro quindi cadiamo qua allora appartiene a questi codici a teco sì passiamo qua c'è una maggioranza di congrui ok ma è una maggioranza molto relativa perché è un 52% verso 40 allora appartiene a questi soggetti a teco no passiamo di qua e c'è una maggioranza sempre limitata di non congrui è qua che c'è il il punto chiave il punto chiave è sostanzialmente che siamo tra comunque arrivati tra tra le aziende che hanno finanziamenti tra 20.000 e 963.000 euro ok allora cosa succede che ha finanziamenti superiori a 963.000 euro allora passiamo di qua e vediamo che l'unico sostanzialmente soggetto gli unici soggetti sostanzialmente che hanno ricevuto finanziamenti di questa portata e che non sono congrui sono molto limitati quindi significa che deve essere un finanziamento di un progetto molto grosso un rifacimento di un aeroporto piuttosto che cioè questo è un finanziamento che non è stato classificato come congruo semplicemente per la natura unica del soggetto quello che mi interessa invece è il numero di progetti non congrui sostanzialmente che sono compresi tra i 20.000 euro e i 963.000 euro no che sono sostanzialmente questi compongono questi 61% di non congrui in questo nodo composto dal 3% dell'insieme totale so di essere stato un po' complesso però il senso è questo c'è un nodo centrale ok che si definisce una regola sì alla sinistra no alla destra una regola definita da questo bisogna seguire il percorso per identificare sostanzialmente a cosa corrispondono i nodi finali qual è la natura dei nodi finali a me interessa identificare questi qua sostanzialmente c'è qualcosa di irregolare in questo 3% di aziende che ha ricevuto un ammontare di finanziamento pubblico compreso tra queste due cifre e che ovviamente equivale a quelle categorie di atteco che corrispondono a le inclusioni e esclusioni dettate dalle regole ok adesso lo vado a vedere allora allora io adesso non faccio altro che crearmi un sottinsieme allora un sottinsieme 113 vediamo un attimo ok ah un altro un altro punto interessante è anche questo è anche questo vedete c'è comunque un finanziamento compreso tra 20.000 euro e 113.000 euro e c'è un nodo composto dall'1% dei soggetti che ricade in questo tipo di finanziamento anche questo è un ammontare di finanziamento relativamente importante allora ora io vado voglio andare a vedere un po' Grazie.